Buonasera a tutti, questa sera continuerei a parlarvi di una pianta che è il vaccinum mirtillus che è il nome botanico del mirtillo nero che ha delle proprietà e delle caratteristiche che possono essere impiegate come coadiuvanti nelle terapie ipoglicemizzanti e nelle diete ipocaloriche. Il mirtillo nero è della famiglia delle ericacee, lo conosciamo benissimo perché è un piccolo arbusto che cresce anche nei nostri boschi e tutti siamo ghiotti dei suoi frutti. Sappiate che i frutti essiccati sono come potere astringente in caso per esempio di disenteria, mentre i frutti freschi favoriscono invece il transito intestinale. Tutti conosciamo poi l'estratto secco di mirtillo perché viene utilizzato come coadiuvante nella microcircolazione, come protettore dei capillari, per le morroidi, per la cuperose, anche miscelato in creme per uso topico. Questa sera invece vorrei analizzare la tintura madre di mirtillo perché è una pianta molto versatile, quindi ogni parte della pianta ha una sua utilizzazione. La tintura madre che ha la particolarità di essere creata da macerazione alcolica, da foglie fresche e frutti freschi, viene utilizzata proprio per abbassare la glicemia e nelle diete ipocaloriche perché riduce l'assorbimento degli zuccheri che noi assumiamo. Quindi potete farvi prescrivere. Normalmente viene utilizzata sui 30-40 gocce due o tre volte al giorno oppure consultarvi col vostro medico di fiducia e il vostro farmacista per avere una prescrizione personalizzata in modo da non rincorrere in effetti particolari. Arrivederci e buona serata.